La Tesera è un sostegno che la società propone a tutti i nostri tifosi. Acquistando la Tesera a 100 euro si potranno godere di importanti vantaggi che partner commerciali si sono messi a disposizione. E che chiaramente ringrazio tutti, a cominciare da Spazio Conad di Alberto Moretti. Sul nostro sito ci sono tutte le informazioni del caso e quindi mi auguro di aver proposto un regalo per noi e noi un regalo a chi vorrà comprare questa carta. La carta sarà disponibile da lunedì presso gli uffici della VL via Bertuzzini 16 da orario ufficio e si potrà acquistare tramite online sul sito della VL, in VL Shop, dove la carta vi verrà spedita a casa tramite un packaging molto simpatico e carino dove troverete all'interno una foto della squadra, una mascherina autentica della VL, una mia lettera ma quella non vale niente e da non dimenticare, mi stavo dimenticando, tutti quelli che acquisteranno questa tessera avranno anche in omaggio una felpa della Carpegna Prosciutto. Aderire con il nostro contributo attraverso 5 buoni da 10 euro ciascuno, ogni buono è spendibile su tutta una spesa di almeno 50 euro e attraverso questa iniziativa è evidente che il tifoso che sottoscrive la VL Card per 100 euro avrà un ritorno di almeno 50 euro in quanto i consumi che vengono fatti all'interno del nostro ipermercato sono i consumi, chiamiamoli, quasi obbligati per ogni famiglia perché si tratta prevalentemente di cibo piuttosto che di genere alimentare di prima necessità.